La ricerca in corso di una donna di 66 anni di Baldissero Questa sera, domenica 23 dicembre, tra Castellamonte e Cornier nei pressi della centrale elettrica L'allarme è stato lanciato per una persona in acqua e si è trasformato in una ricerca La donna, dopo aver litigato con la figlia, si è allontanata La sua macchina è stata trovata parcheggiata a bordo strada e si è pensato che si fosse lanciata in acqua Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Castellamonte Una di Ivrea, i SAF, i mozzatori, i carabinieri e la croce rossa di Castellamonte Di lei nessuna traccia, le ricerche sono in corso Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.